Resta sempre in primo piano il tema della sicurezza degli edifici scolastici a Campobasso. Alcune scuole sono state chiuse perché considerate a forte rischio, su altre sono in corso gli studi sulla vulnerabilità sismica commissionati dal Comune. Tra queste c'è la Materna di Via Crispi per la quale proprio nei giorni scorsi è stata consegnata al Sindaco Battista la relazione dell'Unimol sulle condizioni dell'edificio che, vale la pena ricordarlo, ospita anche gli alunni della scuola dell'infanzia di Via D'Amato chiusa insieme alla primaria. Al termine dello studio gli esperti dell'università hanno proposto in sostanza tre soluzioni quasi scontate, l'adeguamento sismico, il miglioramento o in alternativa l'abbattimento con la ricostruzione di un nuovo edificio. Che la scuola materna avesse delle criticità lo si era capito, resta da capire però come intenda ora muoversi l'amministrazione dove intenda collocare i piccoli all'unni perché anche nel caso in cui il Comune decidesse di far eseguire gli interventi di adeguamento o di miglioramento sismico bisognerà trovare per loro un'altra sistemazione. Il Sindaco Battista sarebbe orientato verso l'abbattimento della struttura per puntare in seguito alla costruzione di un nuovo edificio ma è chiaro che sarà necessario valutare la sostenibilità economica dell'intera operazione. Tuttavia il primo cittadino incalzato anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno chiesto chiarezza su come intenda muoversi ha cercato di minimizzare sottolineando come la situazione della materna di via Crispi sia meno preoccupante rispetto a quella di altri edifici scolastici della città ma il problema comunque c'è e va affrontato. Dunque al momento non è stata assunta alcuna decisione l'amministrazione comunale valuterà se economicamente converrà a seguire interventi di adeguamento o se invece abbattere e ricostruire.